Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Facciamo un piccolo aggiornamento su quelle che sono le news più importanti che sono uscite in questi giorni e ce ne sono due molto particolari di cui una probabilmente già la conoscete, cioè la questione legata a Sam SBF, il caso di FTX. Sam è agli arresti domiciliari in pratica ragazzi da oggi dopo aver pagato una capuzione di 250 milioni di dollari e adesso vedremo un po' com'è la questione. Poi c'è un altro caso che è legato alla proof of reserve e alla questione Binance, come sta andando la questione Binance perché ci sono stati dei botte risposta in questa fase, quindi molta FAB per quanto riguarda l'exchange più grande al mondo, la risposta di Binance che invece è veramente interessante e andremo a vederla proprio oggi perché parleremo un po' di anche quello che hanno risposto e moltissimi anche hanno indicato come il fatto che la proof of reserve di Binance è stata anche rimossa dal sito web di Mazars o Mazars che ancora non ho capito come si pronuncia e detto questo ragazzi poi c'è la questione legata anche ai grafici di come stanno andando e la questione legata anche a un disegno di legge proposto negli Stati Uniti per l'Esebolconi, veramente interessante. Prima di andare avanti io vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale soprattutto perché siamo alla fine dell'anno, siamo tutti più buoni ragazzi, poi volevo farvi anche gli auguri di Natale da parte mia e grazie ancora per questo 2022 spettacolare e difficilissimo che è stato sicuramente molto complesso per una serie di investitori ma alla fine del video poi vi dico anche la mia su questo. Allora iniziamo subito con la questione delle news, degli aggiornamenti sulla questione SBF, FTX eccetera. In pratica probabilmente è stato costruito tutto un meccanismo nei giorni scorsi di natura legale che ha consentito di mediare un po' tra le parti perché ci sono stati dei momenti abbastanza particolari. Intanto l'arresto da parte delle Bahamas e quindi la questione dell'estradizione di Sam negli Stati Uniti che poteva ritardare veramente tantissimo tempo perché come in tutti i paesi dove avviene una estradizione ragazzi alcune volte questa estradizione stessa può essere effettivamente molto molto lenta. Se non che a un certo punto Sam ha rinunciato a questa questione e ha reso possibile l'estradizione negli Stati Uniti perché per come? Perché evidentemente erano già sotto accordo sulla questione della possibilità di dare una cauzione e attraverso una cauzione rendere in sostanza Sam libero agli arresti domiciliari perché sarà in pratica con i suoi genitori, viverà con i due prof della Stanford a Palo Alto in California e la questione è stata approvata proprio nella giornata di ieri 22 di dicembre e questo è molto significativo ragazzi perché probabilmente tutto il gioco delle parti ricordiamo che Sam viene anche da una famiglia molto schillata in termini di legge e quant'altro quindi il gioco delle parti probabilmente è stato quello di far sì che Sam venisse estradato negli Stati Uniti e che la questione però negli Stati Uniti divenisse con cauzione e rimandato agli arresti domiciliari questo era stato probabilmente già accordato con le autorità degli Stati Uniti e tutto è arrivato in maniera estremamente veloce quindi detto questo in ogni caso resta il discorso so che a molti di voi questa cosa darà estremamente fastidio la legge è legge però ve lo ricordo ragazzi e ciò non significa che viene in questo caso eliminata la possibilità di accusa poi sui 115 anni che gli avevano dato in capo d'accusa a Sam per la questione di FTX probabilmente su questo io una mia idea ce l'ho anzi ve la dico fra pochi secondi però l'idea generale è che comunque lui debba consegnare il passaporto non può allontanarsi quindi gode di una libertà su cauzione però in pratica deve stare fermo negli Stati Uniti allora secondo me nei prossimi mesi si tenterà anche in questo caso la strada della problemi di natura mentale perché viste anche le ultime dichiarazioni un po' forvianti un po' senza senso un po' fuori dal comune di Sam credo che per questa questione delle cause sarà un po' intentata la strategia dello stato di salute mentale dell'ex CEO di FTX cosa ne pensate voi? Sembra un po' tutto organizzato a tavolino cioè da dire che comunque tutto è nel rispetto delle leggi e delle regole anche degli Stati Uniti un po' una beffa vediamo se ci cascano o non ci cascano vediamo un po' quello che succede cosa ne pensate voi? Stanno costruendo un po' tutto questo caso per fare in modo che Sam ne esca un po' poco toccato diciamo così perché a livello personale magari potrebbe essere poco toccato detto questo passiamo alla prossima news cioè la questione di Binance c'è stato negli ultimi periodi una grande fad sulla questione di Binance perché la proof of reserve degli exchange è stata messa in serie di discussione a tal proposito ragazzi io ho anche realizzato una live con Blockchain Cafè con Marco Crotta che parla proprio della questione della proof of reserve quali sono i punti di forza o no e a cosa serve quindi se non l'avete vista vi lascio il link sopra la mia testa andatelo a vedere in ogni caso anche Mazzars ha tirato via dal proprio sito la possibilità di fare proof of reserve di Binance quindi è stata proprio rimossa dal sito della revisore e anche le altre quattro aziende principali che sono quelle di revisione contabile le più importanti che sono KPMG, Young Actenture e Deloitte non consentono di fare questo tipo di attività sugli exchange perché probabilmente non sono ancora provviste di quelle che sono i giusti meccanismi di analisi on-chain su questa cosa anche lo stesso Binance ne parla in questo blog che posta dando una serie di risposte che secondo me sono interessanti intanto indica che la sospensione temporanea dei prelievi di USDC che era avvenuta all'inizio del mese di dicembre era in pratica programmata per la questione della conversione tutto nella stablecoin di BUSD perché in questo caso BUSD rappresenta l'unica stable che Binance avrà in questo caso come gestione interna quindi non come trading e altro e poi dice che quindi insomma era tutto programmato e continua a confermare la riserva della disponibilità degli asset di tutti gli utenti di Binance a 1 a 1 e anche il 16 dicembre CryptoQuant ha verificato l'eserve di Binance riferendo che non fosse presente alcun segnale simile a quanto visto a FTX non so, forse riguarda in questo caso la famosa analisi di CoinDesk però quella era su Amida, non su FTX quindi non so di preciso a cosa si riferiscono poi qui parla della questione appunto che vi ho già accennato di Mazzars e le Big Four che sono le altre agenzie di rating di cui vi ho già detto e poi un'altra cosa veramente interessante è di nuovo la questione legata al fatto che CZ dice che secondo lui Binance non ha distrutto FTX ma FTX lo ha fatto da solo e poi ribadisce questo che è un concetto molto importante lo stanno dicendo da un po' cioè che la questione di Binance non è monopolizzare il settore delle crypto ma è aumentarne l'ambito dell'adoption certamente se anche fosse questa la sua intenzione con l'ultima questione legata a FTX l'adoption l'ha portata indietro di almeno un paio d'anni quindi in sostanza Binance ha forse fatto mali conti da questo punto di vista c'è anche da dire che oggettivamente non è che poteva nascondere Binance la truffa di FTX quindi questo è oggettivo però magari si poteva gestire in altri modi rendendo il mercato delle criptovalute meno bancarella e più professionale sicuramente sì quindi non facendo una bagarre su Twitter inutile e magari gestendo invece nelle sedi appropriate già con denunce e tutto il resto ma probabilmente CZ non sapeva quindi anche Binance sapeva della questione e della truffa di Sam dietro le spalle questa verità ragazzi secondo me lo scopriremo mai non la scopriremo mai perché in realtà solo loro sanno queste cose quindi c'è poco da dire in ogni caso Binance continua a dire noi vogliamo l'adoption quindi lotteremo per questo però in ogni caso anche e ancora in questa settimana continua l'esodo dall'exchange più grande al mondo di 1 billion e 500 milioni di dollari che sono usciti con NetFlow ragazzi vabbè questo sulla rete di Ethereum se guardiamo su tutte le altre chain sono quasi un po' di meno sono 100 milioni in meno però in sostanza non cambia la questione c'è ancora l'esodo dagli exchange ragazzi quindi c'è ancora sfiducia totale nel settore e ancora continua l'esodo da questo punto di vista è una questione delicata sì e no stiamo vedendo anche delle reazioni sul mercato dei prezzi di Lcrypto e di Bitcoin molto più leggere rispetto a quello che era il passato proprio perché tutta questa liquidità che va via ragazzi è negativa a prescindere per il sistema cripto è negativa a prescindere per la giusto equilibrio tra domanda e offerta meno liquidità c'è sui checks e peggio è per il mercato da un punto di vista di equilibrio di mercato perché l'assenza della liquidità porta alla facilità delle manipolazioni dei prezzi quindi più meno liquidità esiste sui checks più i prezzi possono essere manipolati a piacimento da chi ha le mani forti questo è il concetto che voglio ricordarvi quindi ricordatevi questa cosa non è positiva l'assenza di liquidità la fuoriuscita delle liquidità è vero che si dice si va nei DEX e tutto il resto ma nei DEX non abbiamo un order book perché in realtà tutte le liquidità probabilmente si sposano su wallet privati custodial di cui si detengono le chiavi private e questo implica che non sono in order book perciò se una balena vuole fare una manipolazione su una cripto più piccola ha bisogno di meno capitale quindi meno liquidità il mercato cripto probabilmente nei prossimi mesi sarà molto più inefficiente e molto più manipolabile rispetto a un anno fa è un passo indietro enorme questo io lo ribadisco da un punto di vista in termini di analisi di mercato equilibrio domanda e offerta una notizia invece interessante la questione legata al senato degli stati uniti perché un senatore ha proposto un disegno di legge per la regolamentazione dei pagamenti in stable coin dove in pratica indica che le stable coin sono un grande vantaggio per il dollaro e questo ragazzi non è una cosa da sottovalutare perché in pratica avendo questa idea generale noi potremmo anche dire che il governo degli stati uniti potrebbe in effetti andare ad accettare questa tecnologia quindi un po' lo spauracchio sulla questione di stable coin verrebbe meno c'è da dire che in questo caso la regolamentazione che viene proposta in questa legge ragazzi qui c'è proprio il vi faccio vedere proprio il ecco la presentazione quindi al senato degli stati uniti di questa proposta di legge ovviamente è una proposta non c'è nessuna approvazione però in questo caso gli enti che emetterebbero l'estable coin dovrebbero rispondere in pratica alla se non vi ricordo come si chiama in pratica all'agenzia che regola le banche ragazzi non l'estable coin non entrerebbero in questo caso né come securities né come commodity quindi non ne risponderebbe né la SEC né la CFTC ma ne risponderebbe esclusivamente questa agenzia che se non ricordo come si chiama che regola in pratica la moneta regola le monete per le bianche e per le banche quindi regola tutte le banche quindi gli enti che usano le stable coin sarebbero identificati più o meno come banche e in sostanza quindi dovrebbero rispettare una serie di parametri quindi garantire che c'è il peg costante e continuo garantire che c'è una proof of reserve di queste stable coin deve essere trasparente identificata ogni totto devono avere la revisione da parte delle agenzie di regolamentazione di revisione le big four che vi ho detto prima insomma molto interessante questa cosa vediamo se passa comunque è un'accettazione del stable coin che potrebbero non minare lo stato del dollaro ma anzi aumentarne il suo flusso almeno così viene detto in questa legge detto questo ragazzi io direi che adesso possiamo andare un po' a fare il punto della situazione per chiudere il video sulla questione dei grafici perché oggi andiamo a vedere intanto come si sta comportando bitcoin che negli ultimi giorni ne ha fatto su e giù ma poi vi mostro anche un grafico sulla total market cap delle crypto perché vi faccio vedere una cosa e io lo so che parlo sempre in cosa allora io sono iper positivo sul mercato delle crypto però ragazzi ve lo ripeto in questo momento i grafici l'analisi tecnica e tutto quello che sta succedendo puntano solo in una direzione che è la direzione e non c'ho ce l'ha pistola ce l'ha pistola va bene questa è la direzione però io porto di nuovo il mio bitcoin goal che qualcuno di voi mi ha detto parlo da quando non fai lanciare più la moneta in aria non cresciamo perché tutti questi dati portano alla negatività e ora lo vediamo vi faccio vedere anche un'altra cosa interessante da vedere per il prossimo anno però anche questa eccessiva negatività forse è l'unico dato positivo in questo momento ve l'ho già detto però io in ogni caso mi affido all'indicatore più importante il più affidabile di tutti che mi dirà se il prossimo anno ci sarà un rimbalzo ed è il lancio della mia moneta bitcoin sulla B rimbalzo sulla parte dei circuiti invece crash ve lo dico non lo so va bene detto questo lancio della moneta andiamo a vedere i grafici è uscita una cosa bella però io non vi dico cosa ragazzi e niente vi dovete fidare di me e beh vediamo vabbè detto questo partiamo intanto dal grafico di bitcoin vediamo total market cap e poi tiro velocemente ragazzi allora di porto il grafico che volevo farvi vedere di bitcoin no lo trovo più dove sei niente non lo trovo più ragazzi il grafico di bitcoin che volevo mostrarvi oggi mi spariscono i grafici perché ne ho veramente tanti 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 ragazzi e niente si tratterà di andare a vedere questo qui vediamo questo qui e facciamo prima allora da un punto di vista di grafico in termini di analisi tecnica oggi facciamo solo analisi tecnica il mercato lo scorso le scorse giornate ha fatto un po' il buono e il cattivo tempo cioè come vedete qui c'è un nulla di fatto in pratica questo mese il mese di dicembre è uno dei mesi meno volatili degli ultimi anni questo è positivo già ve lo dico poi ne parliamo il prossimo anno dal punto di vista di analisi proprio dei dati perché vi faccio vedere questa candela ha un range veramente piccolo ed è molto buono perché ha un range di pochissimo pochissimo spazio vedete è una candela piccola 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 di indecisione questo significa però è contenuta nel precedente minimo quindi in pratica il mercato è strettamente indeciso c'è anche da dire che questo livello adesso dei 15.000 qualcosa è diventato un super livello di supporto nelle prossime giornate che saranno un po' giornate di festa e di Natale quello che dovremmo vedere è un atteggiamento di tentato recupero di questa zona se vogliamo un po' respirare ragazzi è solo trading in questa fase di brevissimo quindi il raggiungimento di nuovo di quota 18.000 dollari sarà fondamentale per quanto riguarda bitcoin inutile che ve lo dico la tenuta poi di questo livello comunque poi andiamo a fare magari le analisi dettagliate per la prossima settimana anche perché qui stiamo andando verso sabato e domenica quindi ci sarà ovviamente sono anche la pre festivi cioè Natale in mezzo quindi ci sarà pochissima volatilità almeno si spera ma l'ha detto l'un la vieta che cominciano a fare danni il giorno di Natale vabbè detto questo vi faccio vedere quindi questa fase ragazzi è praticamente un nulla di fatto un semplice rimbalzo intorno a quota 16.008 che è in questo momento il livello di equilibrio in cui bitcoin sta versando questa zona vedete tra il minimo a 15.600 e questo massimo a questo punto intorno ai 18.000 dollari rappresenta uno spartiacco quindi è una zona classica di equilibrio se vi ricordate i miei innumerevoli video chi mi segue da un po' di tempo sa che queste sono zone di equilibrio di prezzo quindi il mercato fin tanto che resta qui è praticamente al suo prezzo di equilibrio non farà nulla andiamo a vedere invece uno dei grafici che mi interessa moltissimo poi vediamo anche leggermente ethereum cioè la total market cap perché volevo farvi vedere un discorso intanto c'è anche il grafico della ok dove ecco qua la total market cap mi interessava quella senza bitcoin ok ragazzi eccola qui trovata allora total market cap escluso bitcoin per andare a comprendere un po' la questione di che cosa stanno facendo allora intanto la prima cosa che dobbiamo andare a controllare di questo grafico è intanto il superandamento positivo che c'è dalla nascita di queste delle altcoin e della struttura delle altcoin quindi ricordiamoci sempre da dove viene questo mercato poi è anche vero che qui erano milioni di dollari diciamo nel 2000 quindi insomma è ovvio che adesso il peso di fasi di bassiste è molto più ampio rispetto a questi anni qui del 2017 però in ogni caso c'è anche un atteggiamento molto simile da andare a vedere in questa struttura ora veniamo da anni estremamente rialzisti però ragazzi l'ultima fase ha lasciato vedete in questa zona da novembre del 2020 al livello poi qui di raggiungimento del primo picco di maggio 2021 e poi il successivo ritoccato novembre 2021 ha indicato in pratica una cosiddetta bull run senza mezzi termini cioè in pratica come le precedenti quindi senza creare nessun livello di supporto e di perché non c'era nulla a parte questo massimo del 2018 però in questa zona non c'è mai più rientrato nelle precedenti fasi di ribasso mentre in questo caso c'è rientrato e come questo vi fa anche comprendere come se è anche vero che la fase ribassista delle cripto in questo caso è molto simile alla precedente vedete in quel caso abbiamo fatto meno 91 qui siamo addirittura a meno 70 che è meglio del precedente questo è escluso bitcoin ragazzi è giusto per per spiegarlo da un punto di vista però di struttura di ritracciamento non è la stessa cosa anzi è peggio perché questo ritracciamento non ha mai toccato la fase di burran che come vedete partiva da qua e arrivava qui sotto invece qui la fase di burran è partita da qui quindi questo ritracciamento l'ha quasi dimezzata questo è il significato e invece vedete qui per esempio la fase più o meno simile dovrebbe essere in questa zona quindi questa fase di ritracciamento doveva avvenire più o meno così invece non è mai avvenuta vedete in questa fase nonostante parliamo di una percentuale inferiore essendo che le cripto ovviamente nella fase di burran hanno ritracciato di meno la percentuale non spiega bene questo movimento quindi questo è un movimento ribassista e va considerato indipendente dai precedenti movimenti quindi questo è interessante appunto di andarlo a vedere poi successivamente c'è un'indicazione molto evidente questo livello 440 billion di market cap senza bitcoin rappresenta un baluardo ragazzi perché da un punto di vista di analisi tecnica ed è inutile negare una cosa del genere se dovesse essere breccato con conferma per esempio in close weekly o daily succede un disastro perché questa zona non ha alcun supporto nessun tipo di supporto quindi il primo supporto noi lo abbiamo a 270 billion e il successivo badate bene o punto d'arrivo tecnico per eccellenza lo abbiamo a 153 billion questa cosa se avvenisse effettivamente nel 2023 sarebbe un'ecatombe del cripto da un punto di vista proprio delle altcoin ragazzi poi vedremo se bitcoin potrebbe seguire o meno ma insomma su una cosa del genere bitcoin magari può scendere di meno ma comunque difficile che potrebbe succedere potrebbe stare in piedi solo lui allora qui parliamo di un meno 70% dagli attuali livelli quindi ovviamente sarebbe un 2023 con meno 70 più plausibile un arrivo all'interno di questa zona cioè una meno 33% quindi questo è l'ultimo livello di baluardo di supporto ragazzi è quello sul quale si poggia Ethereum adesso ve la faccio vedere anche altre cripto al di sotto di queste vedremo considerevolmente fallire una serie di progetti di quelli sfazzatura e probabilmente le top 10 cripto per perdere una capitalizzazione di 200 billion dobbiamo ragionare sul fatto di chi la perde è anche vero che se falliscono mille cripto che hanno pochissimi milioni di capitalizzazione non raggiungiamo quella cifra quindi verrà sicuramente toccato Binance e Ethereum su una cosa del genere questo dobbiamo prenderne atto quindi qualora analisi tecnica avesse ragione io sono ancora estremamente positivo lo sapete faccio sempre però questo è un dato ve lo volevo far vedere perché questo è un grafico insomma da questo punto di vista allarmante solo l'analisi ciclica ci dà una minima 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 speranza se qui è stato chiuso un annuale qui o qui più o meno di 490 giorni molto lungo però ci può stare quindi da qui in poi ragazzi se ritorniamo a respirare ben venga ok è andata altrimenti attenzione a queste fasi non andate in hold su criptovalute che magari sono in trend ampiamente ribassisti dividete molto il vostro patrimonio non cercate di prendere i minimi è sbagliato tecnicamente anche se ci riuscite è comunque sbagliato non sono così finanziari lo sapete però da buon padre di famiglia io continuo a dirvi da 4 anni su questo canale rischiate il meno possibile mi raccomando sia su questo settore sia sul classico sia sull'old sector a prescindere va bene allora ci resta poco tempo per andare a guardare Ethereum se ci dà un'informazione aggiuntiva ma in realtà non è diversa rispetto anche a quello che abbiamo visto come vedete questo grafico rispetto a quello precedente è molto 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 simile perché Ethereum e BNB fa la stragrande maggioranza di questo total market cap perché senza Bitcoin essendo una total market cap di 400 440 ed essendo più o meno Ethereum ragazzi adesso vi ho ripreso qui il market cap essendo Ethereum avendo Ethereum una market cap di 150 con l'aggiunta poi insomma delle stable che ovviamente hanno la loro market cap in questo caso non sono escluse e vedete che praticamente tutto qui sta la questione quindi quel grafico può anche scendere per il fallimento di una stable coin questo ve lo dico però insomma ricordatevi che il grosso vedete già 1 2 3 cioè qui abbiamo 250 billion se aggiungiamo poi quest'altra struttura arriviamo più o meno a 300 billion nelle prime top 10 in pratica andiamo a fare l'80% di quel grafico e questo è molto significativo il 70% allora questo è interessante poi da andare a vedere appunto perché anche Etinium non è molto diverso nella sua struttura rispetto a questi a quel grafico che vi ho mostrato allora la questione legata alla alla chart di Etinium porta anche in questo caso la super super livello di supporto che è zona 1000 barra 900 dollari questa zona è importantissima la non tenuta di questa zona vedete apre da spazio a una specie di pista di atterraggio che ha soltanto questo livello 7,50 di un livello intermedio 7,70 e poi da qui abbiamo il target 2 che è 600 e poi il target 3 che addirittura è 400 che corrisponde a un precedente disagio diciamo che vi ho fatto vedere sulla total market cap allora detto questo queste sono dei livelli estremamente rilevanti solo la ripresa nel breve e nei prossimi fino a gennaio diciamo di un trend di breve rialzista ci fa respirare ragazzi al di là di questo va benissimo se stiamo fermi qui però ricordatevi che qui siamo su dei livelli di supporto estremamente rilevanti mi raccomando quindi da questo punto di vista prendetene prendetelo in considerazione questo discorso e in modo da valutare anche i vostri posizionamenti perché sono molto molto importanti ok nel prossimo video vi faccio un'analisi sul mio migliore investimento del 2022 e resterete stupidi perché è l'investimento che nessuno mai vuole e invece ancora una volta nel 2022 come fu anche qualche annetto fa è stato il mio miglior investimento ve lo svelo nel prossimo video ma è una banalità e quindi non vi picchiate ciao vabbè visto che non mi ha messo in stop il video vi do gli auguri di Natale per l'ennesima volta ragazzi passate un felicissimo e ottimo Natale questo è stato un anno veramente difficile per il settore dell'ecrito ma un anno di grandissima formazione per chi come me e come tantissimi che siete nella mia community ama studiare ama formarsi e prepararsi ragazzi ricordatevi che i momenti di estremo disagio di estrema difficoltà sono i più grandi insegnanti e vi aiuteranno veramente tantissimo nei prossimi anni se pensate che vivere questo tipo di periodo sia stato negativo vi assicuro che non sarà così perché fra dieci anni chi di voi magari anche molto giovane chi di voi studia in questa fase impara in questa fase ci forma in questa fase vedrà quanto è stato importante vivere queste crisi ho vissuto anche quella di internet del 2000 ero veramente giovane e me la ricordo benissimo ragazzi ho imparato tantissime cose niente può insegnarvi come vivere queste fasi nessuna lettura di un libro non esiste ragazzi solo vivere queste cose vi insegna che cosa significa e l'esperienza la parte emotiva che si instaura dentro di voi quindi è un buon Natale è un anno 2022 difficile ma anche con il bicchiere mezzo pieno secondo me quindi ragionate così buon Natale a tutti alle vostre famiglie e ai vostri cari ciao ragazzi grazie a tutti